Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1012 del 2010, lotto 1. Abitazione, di metri quadri 42,61 netti, costituita da soggiorno, camera letto matrimoniale, ripostiglio e zona soppalcata di metri quadri 37,62. Sito in via Santa Maria dell'Alcroce numero 18, noci. Prezzo base, 42.915 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 6 giugno 2015 alle ore 9.30. Vendita con incanto. 20 giugno 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via Principe Amedeo numero 115. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1012 del 2010, lotto 2. Abitazione, di metri quadri 37,54 netti, costituita da ingresso, cucina, bagno e zona soppalcata di metri quadri 20. Sito in via Santa Maria dell'Alcroce numero 20, noci. Prezzo base, 35.100 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 6 giugno 2015 alle ore 9.30. Vendita con incanto. 20 giugno 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via Principe Amedeo numero 115. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1041 del 2009, lotto 1. Appartamento al piano rialzato, di metri quadri 130 lordi, composto da soggiorno, cucina con camino, disimpegno, ripostiglio, due camere letto, due bagni, oltre due terrazzi. Al piano terra via terrazzo apporticato, di metri quadri 300, con accessi indipendenti. Lastrico solare sovrastante appartamento. Sito in via Masseriola numero 2, Noi Cattaro. Prezzo base, 275.365 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 10 luglio 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in San Michele di Bari, via della Resistenza numero 69. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1041 del 2009, lotto 2. Autorimessa al piano interrato, di metri quadri 260 circa. Sito in via Masseriola numero 4, Noi Cattaro. Prezzo base, 195.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 10 luglio 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in San Michele di Bari, via della Resistenza numero 69. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1043 del 2012, lotto A. Appartamento al secondo piano, costituito da salotto, cucina, bagno, wc, ripostiglio e tre camere, metri quadri 102 lordi, oltre quattro balconi, metri quadri 13 circa. Sito in via recupero numero 12, Polignano a mare. Prezzo base, 112.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso studio in Noci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1043 del 2012, lotto B. Cantinola al secondo piano interrato, metri quadri 13 circa netti. Sito in via recupero numero 12, Polignano a mare. Prezzo base, 6.800 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso studio in Noci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1076 del 2013, lotto unico. Abitazione di metri quadri 59 circa, composta al piano primo da soggiorno, pranzo con angolo cottura, bagno, balcone, e al piano secondo da camera da letto, ripostiglio, balcone, con sovrastante lastrico solare praticabile e annesso adiecente deposito al piano terra con servizio igienico. Mancano dichiarazione con formità impianti e attestato di prestazione energetica. Presenti di formità sanabili. Sito in Ia Barbacana numeri 31 e 33, Monopoli. Prezzo base, 87.762,50 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II numero 52. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1077 del 2012, lotto unico. Appartamento al secondo piano, composto di quattro vani e accessori. Box auto interrato di metri quadri 17 circa. Sito in Traversa Manzoni, Bitonto. Prezzo base, 81.750 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 15 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Bari, Corso Mazzini numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1078 del 2010, lotto unico. Villa composta al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, lavanderia, antibagno e bagno, pertinenziale giardino e posto autoscoperto e al piano interrato da tre camere letto, corridoio, due bagni, spogliatoio, studio, oltre intercapedini utilizzabili come deposito. Sito in via Alcide De Gasperi, nucleo abitato terra alta, cella mare. Prezzo base, 166.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16 e 30. Vendita con incanto. 11 giugno 2015 alle ore 16 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, numero 142. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1079 del 2013, lotto unico. Immobile con annesso terreno di pertinenza. Sito in contrada Scarpara, Gravina in Puglia. Prezzo base, 85.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 giugno 2015 alle ore 17 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Gravina in Puglia, via Libertà numero 7. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1087 del 2012, lotto unico. Appartamento al piano rialzato, composto di tre vani e accessori, vani 5 catastali. Presenti difformità edilizie. Sito in via Pasubio numero 3, Trigiano. Prezzo base, 112.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Noci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1105 del 2013, lotto unico. Appartamento al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere letto, due bagni e due balconi, metri quadri 98,37 commerciali circa. Presenti difformità. Manca certificato di agibilità. Sito in via Ettore Fiera Mosca numero 2, Gravina in Puglia. Prezzo base, 103.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 15.30. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 15.30. Luogo della vendita, studio in Bari in piazza Aldomoro N, 8. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1162 del 2012, lotto unico. Casa composta da vano e sottoscala adibito a legnaia al piano terra, tre vani al piano rialzato, e tre terrazzi a livello al primo piano con relativi lastrici solari al secondo piano. Sito in Ibico San Giovanni numero 21, Cassano delle Murge. Prezzo base, 52.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 19. Luogo della vendita, presso studio in Noci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1218 del 2013, lotto unico. Fabbricato d'epoca composto da ingresso, soggiorno, letto, vano pluriuso, bagno, cucina e chiostrina coperta al piano terra, torrino, scala, vano soppalco, pertinenziale terrazzo a livello, parzialmente coperto da tettoia al piano primo. L'area del terrazzo è edificabile per futura sopraelevazione. Sito in via Giuseppe Mazzini numeri 55 a 57, Valenzano. Prezzo base, 130.100 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, presso studio Avvocato De Meo in Bari, via Putignani numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1235 del 2013, lotto unico. Porzione di villa bifamiliare, composta da tre vani e accessori al piano terra e sovrastante lastrico solare, nonché giardino, con entrostante ripostiglio. L'immobile presenta difformità non sanabili e manca di abitabilità. Sito in frazione mellitto, corpo di fabbrica 12 del Residence Le Fontanelle, grumo a pula. Prezzo base, 77.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Celentano numero 6. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1252 del 2012, lotto 1. Fondo seminativo, meglio descritto nella perizia in atti. Sito in contrada Goffroleo, locorotondo. Prezzo base, 4.195 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Celentano numero 6. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1262 del 2013, lotto unico. Abitazione tipo monolocale al quinto e ultimo piano. Sito in via Monsignore Francesco Nitti numero 45, Bari. Prezzo base, 40.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Principe Amedeo numero 118. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1279 del 2013, lotto unico. Fabbricato ad uso civile, piani terra, primo, secondo, terzo e deposito al piano seminterrato. Sito in vicolo Tarsitano Angolo via Antonio Maria Galietti numeri 23 a 15, Cassano delle Murge. Prezzo base, 62.480 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 giugno 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 20 giugno 2015 alle ore 9. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 1286 del 2013, lotto unico. Appartamento di metri quadri 92 circa e 7 vani catastali. Sito in viale Dante Alighieri numero 57 barra di Castellana Grotte. Prezzo base, 152.936 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 16 e 30. Vendita con incanto. 17 giugno 2015 alle ore 16 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Conversano, via Giovanni Pascoli numero 32. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 128 del 2013, lotto unico. Locale commerciale al piano terra, di metri quadri 101, con sottostante corrispondente piano interrato. Presenti difformità. Sito in via Capitano Maiorano numero 29, Bari. Prezzo base, 207.280 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 23 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Manzoni numero 15. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 139 del 2012, lotto uno. Fondo rustico, 30 aree 77, centiare seminativo arborato. Fondo rustico, 2 aree 5 centiare, uliveto. Immobile locato con contratto scadente il 9 settembre 2016, rinnovabile. Sito incontra da padre Sergio, Monopoli. Prezzo base, 9843 euro e 75 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio legale a Dante in Bari, via Lattanzio numero 21. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 139 del 2012, lotto due. Fabbricato di metri quadri 21, con circostante attinenza scoperta e terreno pertinenziale 18 aree 48 centiare. Sito incontra da padre Sergio, Monopoli. Prezzo base, 13.218 euro e 75 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio legale a Dante in Bari, via Lattanzio numero 21. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 143 del 2011, lotto unico. Appartamento composto da ingresso, corridoio, salone, tre camere da letto, cucina abitabile, bagno, stanzino, ripostiglio, veranda e balcone. Sito in piazza Sant'Antonio numero 19, Monopoli. Prezzo base, 110.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 11 giugno 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, numero 142. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 149 del 2011, lotto unico. Porzione di fabbricato in corso di costruzione pieni terra e interrato, di metri quadri 260 circa costituito da cucina, soggiorno, zona letto e bagno, oltre zona deposito materiali agricoli cantiere e cantina. Terreni agricoli in colto produttivo, di aree 9 e 54 centiere e seminativo di aree 3 e 5 centiere. Sito incontrata Murgetta, Gravina in Puglia. Prezzo base, 119 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 17 giugno 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio in Conversano, via Giovanni Pascoli numero 32. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 163 del 2013, lotto unico. Appartamento al quinto piano, composto di 5 vani e accessori. Sito in via Carroccio numero 47, Trigiano. Prezzo base, 82.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 15 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 29 giugno 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in Bari, Corso Mazzini numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 185 del 2010, lotto unico. Abitazione allo stato rustico al terzo piano, costituita da tre ambienti e due corridoi, oltre due terrazzi a livello. Sito in via Terlizzi numero 26 barra A, Altamura. Prezzo base, 56.250 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 giugno 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 20 giugno 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, presso studio in Conversano, via Edmondo De Amicis numero 50. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 208 del 2009, lotto uno. Fondo rustico di 89 aree e 37 centiere, seminativo e uliveto. Sito incontra da padre Sergio, Monopoli. Prezzo base, 29.250 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in Bari, via Pietro Ravanas numero 228. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 208 del 2009, lotto due. Diritto di usufrutto su casa di 9,5 vani catastali. Sito incontra da Cristo Re numero 117, Monopoli. Prezzo base, 66.000 euro. Quota, usufrutto. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in Bari, via Pietro Ravanas numero 228. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 214 del 2011, lotto unico. Appartamento al piano terra, composto da ingresso, pranzo, camera letto, cucina e bagno, metri quadri 41 l'or di circa. Sito in via Ravanas numero 125, Bari. Prezzo base, 51.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 30 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in Bari, via Cardassi numero 26. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 217 del 2002, lotto unico. Casa di vecchia costruzione, due vani EWC al primo piano, due vani tramezzati al secondo piano, tettoia e lastrici solari al terzo piano. Sito in via Annunziata numero 17 e via Larosa numero 37, bitetto. Prezzo base, 23.120 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 6 giugno 2015 alle ore 9 e 30. Vendita con incanto. 20 giugno 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Principe Amedeo numero 115. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 226 del 2013, lotto unico. Unità immobiliare al piano rialzato composta da tre vani catastali con annessa area pertinenziale. Box auto al piano terra di metri quadri 20 catastali. Sito incontrada a Mercadante, in complesso Borgo San Gaspare numero 163, Cassano delle Murge. Prezzo base, 39.800 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Celentano numero 6. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 249 del 2012, lotto unico. Appartamento al primo piano, di metri quadri 125,19 circa, composto da tre vani, accessori e terrazza a livello. Pertinenziale cantinola al piano seminterrato di metri quadri 6,70 commerciali. Sito in via Ceghevara numero 37 barra G, Bari. Prezzo base, 344.425 euro e 69 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Nicolo Putignani numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 25 del 2013, lotto a. Appartamento al piano terra, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due vani, letto e bagno, metri quadri 63,89 lordi commerciali. Manca planimetria catastale. Sito in via Dante Alighieri numero 343, Bari. Prezzo base, 110.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Altamura, via Leggina Margherita numero 30 barra bis. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 263 del 2013, lotto unico. Appartamento al terzo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, tre vani, due bagni e sovrastante pertinenziale corrispondente lastrico solare con accesso esclusivo da scala interna. Pertinenziale cantinola al piano interrato, di metri quadri 7 catastali. Pertinenziale posto autoscoperto al piano interrato, di metri quadri 12 catastali. Sito in via Crissanzio numero 98, Bari. Prezzo base, 495.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio Innoci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 302 del 2011, lotto unico. Capannone industriale, in costruzione, munito di vasche interrate per riserva idricanti incendio e raccolta acqua piovane e cabina di trasformazione. Annessa aria pertinenziale scoperta. Superficie lorda complessiva di metri quadri 13.500 circa. Sito in via delle Orchidee numero 21, Modugno. Prezzo base, 947.420 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 15. Vendita con incanto. 24 giugno 2015 alle ore 15. Luogo della vendita, studio in Bari, Viale Papa Pio XII numero 60. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 33 del 2005, lotto unico. Prestigiosa villa monumentale composta da, piano terra con, salone, salotto con camino, studio con altro camino, cucina, dispensa e sala tv, piano ammezzato con lavanderia, stireria, ripostiglio, bagno di servizio, camera letto con bagno, primo piano con camera da letto con antibagno, spogliatoio e bagno, stanza armadio, ulteriore bagno, Disimpegno e terrazzo, secondo piano con saletta e terrazzo, piano interrato con deposito, cantina, zona ricreativa e palestra con bagni, doccia e sauna, zona esterna con zona verde, zona pavimentata e zona piscina, box auto utilizzato come locale custodia e guardiania. Sito in corso al Cide de Gasperi numero 505, Bari. Prezzo base, 1.530.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 24 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, studio in Bari Viale Papa Pio XII numero 60. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva. numero 349 del 2013, lotto 1. Appartamento al piano terzo, metri quadri 76 calpe stabili, composto da ingresso, soggiorno, tinello abitabile, due camere letto, bagno, ripostiglio e disimpegno, oltre due balconate di metri quadri 32 circa. Sito in piazza San Francesco da Paola numero 7, Monopoli. Prezzo base, 172.430 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 15 luglio 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Mola di Bari, via Divagno numero 54. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 3535 del 2008, lotto unico. Appartamento al piano rialzato, di metri quadri 58 lordi circa, munito di due logge di metri quadri 12,80 circa complessivi e di spazio esterno al piano terra di pertinenza esclusiva di metri quadri 65 circa. Sito in via Samuel Ardillo numero 18, Valenzano. Prezzo base, 73.600 euro. Quota, piena proprietà. Vendita con incanto. 4 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Principe Amedeo numero 118. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 354 del 2012, lotto unico. Appartamento al secondo piano, divani 6 catastali, con annessa soffitta uso deposito al piano quinto. Manca certificato di agibilità. Sito in via Casale numero 241, Gravina in Puglia. Prezzo base, 215.220 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Principe Amedeo numero 118. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 35 del 2013, lotto unico. Appartamento al piano primo, divani 5 catastali. Pertinenzale posto autoscoperto al piano terra di metri quadri 11 catastali. Sito in via della Costituente numero 39, Bari. Prezzo base, 159.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Celentano numero 6. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 370 del 2013, lotto unico. Appartamento al terzo piano privo di ascensore, metri quadri 60,4 lordi, composto da tre vani e accessori. Presenti difformità sanabili. Sito in via libertà numero 16, Bari. Prezzo base, 62.100 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 10 luglio 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio in Bari, Corso Vittorio Veneto numero 6 barra B. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 427 del 2012, lotto unico. Comprensorio di terreni, di 13 ettari 89 aree e 94 centiare complessivi, con entrostanti fabbricati. Casa rurale su due livelli con bagno e cucina, locali deposito e sovrastante lastrico solare ove insiste locale deposito, nonché a diecenti 4 locali uso deposito e ricovero animali. Un capannone prefabbricato uso stalla con concimai e salo a latte e un fienile. Terreni. Sito incontrata Gaudella o Spino Marimo, Gioia del Colle. Prezzo base, 495.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio Innoci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 451 del 2013, lotto unico. Abitazione ai piani terra, primo e secondo, con pertinenziale locale al piano terra e ripostiglio a livello ammezzato tra i piani terra e primo. Presenti ampliamenti, difformità e variazioni d'uso non sanabili. Mancano dichiarazione conformità impianti e certificato agibilità. Sito in via Quasano numero 9, Toritto. Prezzo base, 96.390 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 23 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Manzoni numero 15. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 497 del 2008, lotto unico. Abitazione al piano terra costituita da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, due camere, tre balconi ed aria esterna pertinenziale. Locale al piano interrato destinato a box auto, attualmente adibito d'abitazione. Sito in via Cornole di Ruccia numero 56, Modugno. Prezzo base, 195.750 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 6 giugno 2015 alle ore 9.30. Vendita con incanto. 20 giugno 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via Principe Amedeo numero 115. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 500 del 2011, lotto unico. Appartamento al sesto piano di quattro vani catastali, metri quadri 106. Sito in via Enrico Labini numero 40, Bitonto. Prezzo base, 151.050 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 17 giugno 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio in Conversano, via Giovanni Pascoli numero 32. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 516 del 2012, lotto uno. Appartamento al secondo piano, composto da ingresso soggiorno, zona cottura in ambiente separato, disimpegno e vano letto, oltre due balconi e pertinenziale locale ripostiglio al piano terzo. Sito in via Fratelli Rosselli, Cassano delle Murge. Prezzo base, 33.561 euro e 21 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio legale a Dante in Bari, via Lattanzio numero 21. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 516 del 2012, lotto due. Locale autorimessa al piano simi interrato di metri quadri 27 catastali. Sito in via Fratelli Rosselli, Cassano delle Murge. Prezzo base, 6.852 euro e 27 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio legale a Dante in Bari, via Lattanzio numero 21. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 51 del 2008, lotto unico. Locale autorimessa al piano interrato, metri quadri 1770 circa, suddiviso in posti auto, box esauto, due ripostigli e lavatoio, presente intercapedine per la reazione del locale. Sito in via Pasquale Romito numero 11, Bari. Prezzo base, 170.109 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 556 del 2012, lotto unico. Appartamento al secondo piano, di metri quadri 199,45 commerciali, con soffitta di metri quadri 29,20 e terrazzo scoperto di metri quadri 34 al terzo piano e cantina al rustico al piano interrato di metri quadri 29,60. Composto da ingresso, soggiorno, zona pranzo, cucinino, due camere letto, due bagni, ripostiglio. Sprovvisto di ascensore e certificato di agibilità. Occupato dagli esecutati. Sito in via Girolamo Bruno numero 112, Gravina in Puglia. Prezzo base, 209.250 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, studio in Bari, alla via Nicolo Putignani numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 602 del 2013, lotto unico. Abitazione al secondo piano, composta da ingresso con annesso ripostiglio, cucina, due camere letto, soggiorno, sala pranzo e bagno, oltre pertinenziale autorimessa di metri quadri 11 catastali, costituita da un vano parzialmente soppalcato. Presenti difformità sanabili. Sito in via Angelilo numero 26, Gioia del Colle. Prezzo base, 106.800 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio legale a Dante in Bari, via Lattanzio numero 21. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 604 del 2013, lotto uno. Appartamento al sesto piano, di metri quadri 105 lordi commerciali, composto da soggiorno, due vani letto, cucina, due bagni, ingresso, balconi e terrazzino, oltre box auto al piano interrato, di metri quadri 13,10. Presenti difformità non sanabili. Sito in via Santoro numero 1, Bari. Prezzo base, 234.400 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, presso studio legale e commerciale in Bari, piazza Aldo Moro numero 8. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 604 del 2013, lotto 2. Box auto al piano interrato, di metri quadri 14,50. Sito in via Tomasicchio, Bari. Prezzo base, 17.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, presso studio legale e commerciale in Bari, piazza Aldo Moro numero 8. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 604 del 2013, lotto 3. Deposito al piano interrato, composto da un vano e due servizi, metri quadri 215 lordi commerciali. Sito in via San Girolamo numero 97, Bari. Prezzo base, 146.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, presso studio legale e commerciale in Bari, piazza Aldo Moro numero 8. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 62 del 2013, lotto unico. Appartamento al primo piano, composto da quattro vani e accessori, metri quadri 130. Occupato dal debitore. Presenti difformità in parte sanabili. Sito in via Giovanni Bovio numero 81, Gravina in Puglia. Prezzo base, 144.430 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in San Nicandro di Bari, via Duca d'Aosta numero 65. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 679 del 2009, lotto unico. Locale garage, deposito al piano seminterrato. Sito in via Piave numero 74 barra B e C, Modugno. Prezzo base, 13.100 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in San Nicandro di Bari, via Duca d'Aosta numero 65. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto uno. Appartamento con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 19.593 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 10. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 26.507 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 11. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 27.324 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 12. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 41.949 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 13. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 27.324 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 14. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 26.574 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 2. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 46.862 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 3. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 31.684 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 4. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 23.693 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 5. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 18.012 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 6. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 26.507 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 7. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 27.324 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 8. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 27.324 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 687 del 2003, lotto 9. Appartamento uso ufficio con pertinenziale parcheggio al piano terra. Sito in quartiere San Paolo, Contrada Tesoro, traversa di Viale Europa, Bari. Prezzo base, 26.507 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 695 del 2013, lotto unico. Appartamento al piano rialzato composto da 5 vani e accessori. Sito in via Roma numero 104, acqua viva delle fonti. Prezzo base, 140.313 euro e 75 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 19 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Noci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 698 del 2012, lotto A e B, unificati. Villino composto da piani interrato, terra, primo e secondo con terrazzo di metri quadri 168 commerciali. Box auto al piano interrato di metri quadri 39 catastali. Sito in via Vitorosa numero 3 barra A, Bari. Prezzo base, 150 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, studio in Altamura, Viale Regina Margherita numero 30 barra bis. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 699 del 2005, lotto unico. Complesso industriale insistente su area delimitata da recinzione. Corpo di fabbrica principale composto da capannone formato da 5 campate di cui 4 utilizzate per lavorazione della carne e una destinata a uffici. Presenti bagni, deposito e centrale termica. Palazzina con due appartamenti e locali deposito, tettuglie e piazzali scoperti. Immobile locato. Sito in strada provinciale Ceglie, Adelfia, Valenzano. Prezzo base, 576.600 euro. Quota, piena proprietà. Vendita con incanto. 10 giugno 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, studio in Valenzano, via Bari numero 18. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 69 del 2013, lotto unico. Locale commerciale al piano terra, di metri quadri 50 commerciali, composto da unica stanza e bagno. Sito in palese Corso Vittorio Emanuele numero 99, Bari. Prezzo base, 65.625 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 24 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele secondo numero 52. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 710 del 2011, lotto unico. Unità immobiliare costituita da due vani e accessori al piano terra, vano cantina e primo piano cui si accede da portoncino e scalinata comuni con terzi, oltre sovrastante lastrico solare. Presenti opere abusive. Mancano certificati di abitabilità e agibilità. Sito in via Trieste numeri 36 a 38, grumo a Pula. Prezzo base, 44.600 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 10 luglio 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in San Michele di Bari, via della Resistenza numero 69. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 728 del 2013, lotto uno. Villino piani scantinato, terra e primo, con onnesso terreno pertinenziale di metri quadri 2873, qualità oliveto parzialmente coltivato. Presente lieve difformità. Sito in via vecchia conversano numero 23 barra B, Castellana Grotte. Prezzo base, 190.660 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Monopoli, via Giovanni Paolo I numero 14. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 738 del 2011, lotto unico. Locale commerciale al piano terra, di metri quadri 72 catastali, distribuito in tre vani accessori. Sito in via Francesco Crispi numero 23, Bari. Prezzo base, 58.300 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 11 giugno 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, numero 142. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 766 del 2013, lotto uno. Deposito al piano terra e tre piani interrati di metri quadri 121 circa. Sito in via Scale Lunghe numero 12, Gravina in Puglia. Prezzo base, 48.493 euro e 78 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 15 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 29 giugno 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio in Santeramo in Colle, Corso Tripoli numero 204. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 766 del 2013, lotto due. Immobili ai piani terra, primo e secondo di metri quadri 190 circa. Sito in via Scale Lunghe numero 15, Gravina in Puglia. Prezzo base, 103.274 euro e 20 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 15 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 29 giugno 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, presso studio in Santeramo in Colle, Corso Tripoli numero 204. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 775 del 2009, lotto unico. Unità immobiliare divani 8 catastali. Immobile occupato da esecutato. Sito in via Ettore Fiera Mosca numero 62, Bari. Prezzo base, 73.632 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 giugno 2015 alle ore 17.30. Vendita con incanto. 12 giugno 2015 alle ore 17.30. Luogo della vendita, studio in Gravina in Puglia, via Libertà numero 7. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800-630-663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 777 del 2013, lotto unico. Appartamento al terzo piano, composto da ingresso, salone, cucina, corridoio, tre camere, due bagni e ripostiglio, oltre due balconi. Pertinenziale posto autoscoperto al piano interrato di metri quadri 27. Sito in via Padre Pio numero 6, Monopoli. Prezzo base, 147.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17.30. Luogo della vendita, presso studio in Noci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 781 del 2007, lotto unico. Abitazione, di metri quadri 88,22 complessivi, composta da due camere al secondo piano e da camera, cucinino, due bagni al terzo piano, con soffitta esterna, terrazzo e ripostiglio, abitazione al primo piano, di metri quadri 20 complessivi, composta da soggiorno, cucina e bagno, scantinato al piano interrato di metri quadri 12,5. Sito in via Vico Santulli numero 1, Gravina in Puglia. Prezzo base, 35.286 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 10 luglio 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in San Michele di Bari, via della Resistenza numero 69. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 790 del 2012, lotto 2. Abitazione ricavata da sopraelevazione abusiva su terrazzo, di metri quadri 109,45, con accesso esclusivo su terrazzo calpestabile. Deposito di metri quadri 6,58 commerciali, costituente vano tecnico del condominio. Sito in via Lucania numero 40, Altamura. Prezzo base, 4823 euro e 76 centesimi. Quota, un quindicesimo. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in Bari alla via Nicolo Putignani numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 790 del 2012, lotto 3. Deposito di metri quadri 60,95 con soppalco di metri quadri 8,60. Deposito di metri quadri 45,39 commerciali, dotato di servizi autonomi. Sito in via Libia numero 16, Altamura. Prezzo base, 2465 euro. Quota, un quindicesimo. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in Bari alla via Nicolo Putignani numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, nuovo rito fallimentare numero 79 del 2012, lotto 3. Abitazione al primo piano di metri quadri 400, con pertinenziale giardino e autorimessa al piano interrato. Sito in prolungamento di via Michelangelo Bonarroti, Adelfia. Prezzo base, 112.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale di Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, nuovo rito fallimentare numero 79 del 2012, lotto 4. Abitazione al piano terra di metri quadri 230 circa, con giardino pertinenziale e autorimessa al piano interrato. Sito in prolungamento di via Michelangelo Bonarroti, Adelfia. Prezzo base, 112.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale di Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, nuovo rito fallimentare numero 79 del 2012, lotto 5. Abitazione al piano terra di metri quadri 230 circa, con interni ultimati. Annesso giardino e autorimessa piano interrato. Sito in prolungamento di via Michelangelo Bonarroti, Adelfia. Prezzo base, 187.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale di Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 816 del 2013, lotto 1. Appartamento al piano terra, di metri quadri 34,60 commerciali, composto da ingresso, un vano, cucina e bagno, oltre soppalco di metri quadri 13,80 circa, da cui si accede ad un vano accessorio privo di certificazione di conformità degli impianti, di attestazione di prestazione energetica e certificato di agibilità. Presenti difformità. In corso lavori di manutenzione, la cui quota spettante al debitore è di 1.152,89 euro. Sito in via Michelangelo Signorile numero 35, Bari. Prezzo base, 35.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Vendita con incanto. 19 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Principe Amedeo numero 82 barra A. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 816 del 2013, lotto 2. Appartamento al primo piano, di metri quadri 66,56 commerciali, composto da cucina, bagno, camera letto, soggiorno e due balconi privo di certificazione di conformità degli impianti, di attestazione di prestazione energetica e certificato di agibilità. Presenti difformità. In corso lavori di manutenzione, la cui quota spettante al debitore è di 2.137,42 euro. Sito in via Michelangelo Signorile numero 35, Bari. Prezzo base, 83.900 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Vendita con incanto. 19 giugno 2015 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Principe Amedeo numero 82 barra A. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 843 del 2008, lotto 1. Appartamento al piano rialzato, composto di tre vani e accessori, due balconi ed annessa esterna al piano terra. Sito in via Molfetta numero 124, Giovinazzo. Prezzo base, 111.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, studio in Bari, via Argiro numero 56. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 843 del 2013, lotto unico. Appartamento al piano quarto, di metri quadri 41, composto da ingresso soggiorno, cucina, camera letto e bagno. Manca attestato di certificazione energetica. Sito in via Pietratonda, prolungamento viale salvo d'acquisto numeri 22 a 11, casa massima. Prezzo base, 65.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 26 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Pietro Ravanas numero 228. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 862 del 2009, lotto unico. Unità immobiliare costituita da due piani fuori terra, collegati tramite scala interna e da 19 vani catastali, oltre porticati e balconi, due locali autorimessa pertinenziali al piano terra, metri quadri 29 e metri quadri 22 catastali, circostante terreno di metri quadri 8535 complessivi. Sito incontra da coppie di Bari o pezze del dritto, noi Cattaro. Prezzo base, 422.024 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 16 giugno 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, studio in Bari, via Capruzzi numero 184. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 877 del 2013, lotto unico. Appartamento al primo piano, composto da sette vani e accessori, balcone coperto e terrazzo a livello. Sito in zona G, con trada Pizzunzo, noci. Prezzo base, 136.693 euro e 60 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 18. 8 e 30. Luogo della vendita, presso studio in Noci, via Palmiro Togliatti numero 27. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 91 del 2013, lotto unico. Piccolo fabbricato composto da tre vani, sviluppantesi sui piani terra, primo e secondo, questi ultimi due con balcone. Sito in Chirlia numero 25, Bari. Prezzo base, 45.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in San Nicandro di Bari, via Duca d'Aosta numero 65. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 951 del 2009, lotto uno. Porticato al piano terra. Sito in località Fesca San Giroluamo, Viale Nicolò Van Wester Road, Bari. Prezzo base, 13.575 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in San Nicandro di Bari, via Duca d'Aosta numero 65. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 951 del 2009, lotto due. Porticato al piano terra con ingresso da porta metallica. Sito in località Fesca San Giroluamo, Viale Nicolò Van Wester Road, Bari. Prezzo base, 26.300 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 25 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, studio in San Nicandro di Bari, via Duca d'Aosta numero 65. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 9542 del 2010, lotto unico. Appartamento al quarto piano, di metri quadri 98 utili circa e deposito al piano terra, di metri quadri 13 utili circa. Presenti difformità regolarizzabili. Sito in viale del turco numero 3 barra L, Bari. Prezzo base, 71.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita con incanto. 4 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Principe Amedeo numero 11. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 956 del 2011, lotto unico. Porzione di villa bifamiliare, di metri quadri 141,20 coperti, composta da quattro vani, deposito, WC, lavanderia e stenditoio con intercapedine al piano interrato e da due vani e accessori al piano terra con annesso patio e giardino. Immobile privo di certificato di agibilità. Sito in via dello schiamante numero 2, Bari. Prezzo base, 161.250 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 10 luglio 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in San Michele di Bari, via della Resistenza numero 69. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 976 del 2008, lotto 1. Appartamento al secondo piano di metri quadri, 106,24 commerciali. Garage a livello del piano stradale di metri quadri, 18 lordi. Sito in via Enrico Toti numero 26, Cassano delle Murge. Prezzo base, 121.613 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 10.30. Vendita con incanto. 21 luglio 2015 alle ore 10.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via Dante Alighieri numero 87. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 976 del 2008, lotto 2. Locale al piano terra e primo, in fase di ristrutturazione, con terrazza, ripostiglio e pertinenziale aria scoperta, metri quadri, 253,45 commerciali. Annesso terreno incolto di metri quadri, 31. Sito in via Armando Dias numeri 19 e 21, Cassano delle Murge. Prezzo base, 170.023 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 10.30. Vendita con incanto. 21 luglio 2015 alle ore 10.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via Dante Alighieri numero 87. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 976 del 2008, lotto 3. Locale commerciale al piano terra di metri quadri, 32 lordi. Sito in via Armando Dias numero 27, Cassano delle Murge. Prezzo base, 40.052 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 10.30. Vendita con incanto. 21 luglio 2015 alle ore 10.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via Dante Alighieri numero 87. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 991 del 2012, lotto unico. Abitazione di tipo economico, composta da un vano con annesso ripostiglio al piano primo, un vano con bagno al secondo piano, cucina con ripostiglio e adiacente terrazzino al terzo piano. Sito in via Francesco Crispi numero 48, Castellana Grotte. Prezzo base, 33.750 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 giugno 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio legale a Dante in Bari, via Lattanzio numero 21. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 993 del 2012, lotto unico. Villa indipendente, composta al primo piano da ingresso, soggiorno, cucina, due camere letto e bagno, con antistante latistante e retrostante terrazzo, nonché sovrastante e corrispondente lastrico solare, al piano terra da garage e deposito, nel corpo basso cucinino e WC, pertinenza scoperta in parte uso giardino. Presenti difformità. Sito in strada comunale Pozzo dei Cani numero 36, Putignano. Prezzo base, 194.670 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 23 giugno 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in Bari, via Manzoni numero 15. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 99 del 2007, lotto 1. Opificio costituito da, capannone con piano terra e soppalco e primo piano, di metri quadri 1227. Piccola tettoia di metri quadri 4, locale di metri quadri 23, vano con nastro trasportatore di metri quadri 18, tettoia di metri quadri 212, depositi di metri quadri 12 e metri quadri 13, uffici di metri quadri 102. Sito in via del Fragno numero 41, Altamura. Prezzo base, 224.437 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 7 luglio 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via De Rossi numero 107. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 99 del 2007, lotto 2. Opificio costituito da, capannone di metri quadri 1403, tettoia di metri quadri 223, uffici prefabbicati al piano terra di metri quadri 48, deposito di metri quadri 55. Sito in via del Fragno numero 45, Altamura. Prezzo base, 250.173 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 7 luglio 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via De Rossi numero 107. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, procedura esecutiva numero 99 del 2007, lotto 3. Opificio industriale distinto in, uffici al piano terra comporticato, primo piano collastrico solare e piano interrato, capannone al piano terra, annessi fossa biologica, vano tecnico, locale pompa anticendio con vasca idrica interrata, zona scoperta in parte recintata. Immobile oggetto di sequestro preventivo. Sito in strada statale 171, località Pontrelli, Altamura. Prezzo base, 1.805.625 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 giugno 2015 alle ore 16.30. Vendita con incanto. 7 luglio 2015 alle ore 16.30. Luogo della vendita, studio in Bari, via De Rossi numero 107. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, concordato preventivo numero 03 del 2009, lotto 1. Suolo edificatorio di metri quadri 7.860 circa, qualità seminativo. Sito in strada Iesce, Altamura. Prezzo base, 230.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, concordato preventivo numero 03 del 2009, lotto 2. Appezzamento di terreno, qualità semintaivo di 2,26 euro e 2,24 centiere. Sito in strada Solagne, Altamura. Prezzo base, 340.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, fallimento numero 15.123 del 2007, lotto 1. Centro sportivo polifunzionale e centro benessere, composto da, palazzina uffici su tre piani di metri quadri, 156,48 lordi per piano, capannone adibito a centro sportivo polifunzionale su due piani, piano terra composto da palestra di metri quadri, 532,07, spogliatoi di metri quadri, 364,30, reception di metri quadri, 155,33, zona piscina di metri quadri, 631,23 con due piscine, primo piano composto da uffici di metri quadri, 118,95, sala fitness di metri quadri, 107,85 e zona relax di metri quadri, 273. Sito in via Bari al chilometro 9 della strada statale 271 e ex contrada Parco Nuovo, Bitritto. Prezzo base, 942 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, fallimento 26 del 2014, lotto unico. Complesso industriale, su area di metri quadri 23.764, meglio descritto nella relazione di estima in atti. Sito in strada provinciale 231 Andriese Coratina, Bitonto. Prezzo base, 2 milioni 491 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Bari, fallimento numero 43 del 2009, lotto unico. Opificio artigianale su tre livelli, piano interrato, di metri quadri 580, costituito da tre depositi, locale tecnico antincendio e bagno, piano terra, di metri quadri 620, costituito da locali per la lavorazione, un ufficio e ambienti di servizio, piano primo, di metri quadri 518 con terrazzo a livello di metri quadri 245, dotato di uffici e laboratori. Mancano certificato di agibilità e di prestazione energetica. Presenti difformità. Sito in strada provinciale Polignano, Castellana, Castellana Grotte. Prezzo base, 1.014.620 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 giugno 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale Bari. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. 15hi. Ho Un' Ambilla. Ho Un' Ambilla. Ho Un' Ambilla. Grazie a tutti